In linea con le misure adottate dalla città di Roma, in collaborazione con Roma Servizi per la Mobilità, Lime ha introdotto sconti dedicati per i nostri utenti che raggiungono il centro. Inoltre abbiamo potenziato la disponibilità dei nostri mezzi, sia bici che monopattini, in prossimità delle principali stazioni metro e ferroviarie, per agevolare i cittadini romani a lasciare a casa l'auto per lo shopping natalizio. Per ulteriori informazioni visitate la nostra app Buone Feste a Roma e ai cittadini romani da parte di Lime.